Grazie mille, salve a tutti, sì concordo, è meglio essere sintetici perché è giusto perché lo spazio oggi sia lo spazio dei comitati, lo spazio dei cittadini e di coloro che hanno fatto in modo anche che queste questioni restassero e siano ancora così forti e così calme nei dibattitoriali, credo che sia grazie ai comitati, grazie a coloro che nei loro territori di volta in volta hanno approfondito le singole questioni in modo pregevole, che anche la politica a volte ha fatto finta, a volte è potuto ascoltare, in ogni caso ha fatto sì che se ne parli ancora e se ne parli con una sostanza di discorso che oggi trova spazio qui. Allora, intanto vorrei dire, mi spiace molto che i miei colleghi consiglieri regionali non siano presenti, è stata indetta all'ultimo minuto, un'opinione almeno, una commissione speciale, Ambienti, Mobilità, Territorio, che è quella a cui afferiscono tutti i colori, tutti i consiglieri regionali che si occupano di questi temi e si sta avvolgendo proprio in questo momento, qui al piano solo. Io sono assente, avrei dovuto essere centina, mi spiace moltissimo perché era davvero l'occasione per far intervenire tutti coloro che se ne occupano in modo coerente, dentro questo regionale, ma anche per, mi permetto, diciamo così, di ironia, di non dare nessuna scusante a chi poi non sarebbe davvero perché non aveva interesse a confrontarsi. Posso che ce ne siano, ecco, di questi esempi, posso che ce ne siano. Quindi, ecco, di questo mi piace molto e credo che vada detto, vada esplicitato. Per quanto riguarda il PRIT, ci sono due questioni molto semplici che ci dovremmo porre. Come ha detto il professore Leva, è vero, noi adesso siamo in un vuoto normativo. Il PRIT, l'ultimo PRIT, quello del 98, è scaduto appunto 5 anni fa, non ce n'era un nuovo. Allora, qual è la contraddizione logica e dannosa per il nostro interesse di cittadini, il nostro interesse collettivo? Che si procede ad approvazioni singole, parcializzate, in varie zone del territorio, ma si è persa di vista totalmente una visione complessiva, di cui hanno avviso non si è fatto un bilancio sufficiente e nello stesso tempo appartiene ormai ad un altro mondo. Perché le analisi e le pianificazioni che vengono svolte, come sapete, a volte ci sono alcune di queste grandi opere o alcuni loro frammenti, di cui si parla addirittura dagli anni Ottanta, quindi immaginate davvero un altro mondo, anche precedenti alla caduta del burro di Berlino, ma anche quando se ne parla in anni precedenti alla crisi, quindi l'inizio della prima parte del 2000, ebbè è ancora un altro mondo, no? E' ancora lì, quindi bisognerebbe, prima di procedere, chiedersi cosa ne è stato del PRI del 98. Io ho davanti il documento, credo sia una sorta di documento degli indirizzi, verso il nuovo PRI tra bilancio e prospettive, il linguaggio certamente è un linguaggio così di buon marketing, perché non è, diciamo, allora ci sono dei dati che sono interessanti, però nel complesso lo scenario è uno scenario abbastanza autocelebrativo, cioè comincia dicendo, l'Emilia Romana si conferma tra le 40 regioni più ricche d'Europa, però c'è anche da dire che è la più inquinata d'Europa, questo significa che probabilmente la prima per il reddito è meno inquinata della quarantesima. Allora, cominciare così significa che già si comincia a fare un bilancio che non è particolarmente un bilancio. Il punto è riprendere il PRI del 98, vedere quali erano allora le priorità, capire che appunto il scenario del mondo è molto cambiato, darsi una coerenza con le priorità programmatiche, perché se si dice che non si vuole consumare il suo olio, allora bisogna ripetere se quello che ci chiedeva il PRI del 98 effettivamente salvaguardia questa priorità, e poi chiederci dove è fallito e dove è riuscito il PRI del 98. Per esempio, quando si parla del sistema ferroviario, in questa sorta di documento di indirizzi, se ne parla con ottimismo, eppure noi sappiamo come la vita dei pendolari in Emilia Romagna è una vita di sofferenze quotidiane. Allora, nel momento in cui però il Consiglio regionale abbiamo chiesto che sia preso un nuovo bagno di gara, senza per forza ballare un monopoglio, che è quello uscente tra l'Italia, e aprendo a più interlocutori, possibilmente c'è stato risposto di no. Quando abbiamo detto che se una gara si chiude in modo fallimentale, l'unico modo per dire che l'Emilia Romagna ha fatto una gara aperta per l'ostitamento del proprio servizio ferroviario per i prossimi 22 anni, l'unico modo a farne un'altra, in realtà ci sembra di capire che in questo momento si sta andando ad una trattativa che è soltanto parzialmente opportuna. L'idea è che se si vuole effettivamente affidare modernamente il servizio ferroviario di questa regione, di cui davvero, non insisto, se ne parla oggi, se ne riparlerà forse tra 22,5 anni, 15 più 16,5, allora prima si fa il print, passa in Consiglio regionale, se ne discute, poi si fa un bando di gara aperto, noi abbiamo proposto con il Movimento 5 Stelle che si è diviso in più lotti, in tre lotti, perché questo consentirebbe anche agli interlocutori meno mastodontici in Trinitario di poter partecipare o concorrere, poi si fa una valutazione, se Trinitaria vince uno dei lotti, siamo contenti, però l'importanza è che la priorità ci vuole pendurare, cioè che la qualità del servizio sia garantita per loro, non per chi concorre. Nello stesso tempo, quando ci viene detto mi prendo soltanto 30 secondi ancora in più sulle ferrovie, perché è un'altra discussione calda in questo periodo, quando si dice, normalmente, l'argomentazione dell'assessore ai trasporti è ma, insomma, però, insomma, Fer, quindi Trinitaria e Tiber, in pratica questa accordata, l'unico plico che si è presentato al bando con il chiuso in moto fondamentale, perché nessuna offerta andava bene, cioè l'unica Trinitaria e Tiber non era corretta perché era un'offerta a rialzo, come sapete, chiedevano più soldi di quanti la regione ne aveva stanziato per quel bando, dice però, però loro ci hanno garantito che rinnoveranno al 50% circa il materiale rotabile, ossia i nostri treni, però se voi vedete questo documento di indirizzo sui primi 98, si parla di milioni e milioni di euro, risorse iniziali di 200 milioni di euro, denaro pubblico, dato dalla regione, piano straordinario per rinnovare e ampliare l'intera flotta regionale e aumentare il confono di quelli già in esercizio, quindi, delle due luna, se stiamo pagando noi per l'Italia perché loro rinnovino i treni, beh, forse dovremo cominciare assieme agli uffici tecnici e assieme anche a quelle regioni che stanno portando avanti dei veri bandi di gara aperti in più lotti a chiedici se questa sia la scusa, una scusa che possiamo accettare, tanto vale che sia la regione a comprare i treni e poi ad affittarli, costituendo ad esempio un'agenzia apposita, ad affittarli a chi vincerà il bando, fare dei bandi più brevi perché non si può parlare adesso di questo, poi mettersi in braccio tra l'Italia per 23 anni e poi forse riparare nel 2039, fare bandi più brevi di 10 anni e poi tra 10 anni chi vi darà il gestore poi gli ai prossimi via via e continuare in questo modo per cui si parla di 200 milioni e poi un accordo con un programma di investimenti di ulteriori 100 messi questi da Trinitalia però di questi 100, 60 sono sempre della regione, quindi sempre del danno pubblico. Allora, la questione resta questa qui. Dal punto di vista della mobilità io penso a tutte le agenzie e per la mobilità che sono sul territorio che a volte non si parlano evidentemente di una chiede tra di loro, nello stesso tempo vediamo, prendo ad esempio sempre il bando di gara regionale come sia complesso avere un ente terzo che effettivamente dica la propria, vi ricordate ad esempio il potenziale conflitto di interessi che era sorto quando al bando di gara si presenta Fer che è un'azienda appunto a prevalenza che comunque ha anche capitale regionale sull'interno perché appunto è una cordata fatta con un tibero portato in Italia. Bene, forse un'agenzia per la mobilità di livello regionale non si sovrapporrebbe perché ci sarebbe bisogno effettivamente di un ente terzo rispetto a tutto che dica queste cose, che dica queste cose con le necessarie conoscenze tecniche e nello stesso tempo abbia memoria di quello che sta per il passato non gli sfuga quelle che sono le priorità mutevoli e come cambia lo scenario. quindi questo certamente poi volevo ribattire che si è parlato di sprechi nello stesso documento noi troviamo mentre il nuovo print insisto su questo perché è il nodo fondamentale prima il print poi riflettere su eventuali opere sempre se ce ne sia ancora bisogno di queste cosiddette grandi opere che come avete visto di grandi hanno soprattutto grandissimi sprechi di allenare pubblici davvero di mesi teatrove grande spreco di territorio bene comune finito e non più recuperabile e non certamente facilmente recuperabile se non nei secoli a terreno agricolo e appunto poi in rilevanza abbiamo degli esempi già adesso di strade non utilizzate di autostrade addirittura in cui racconto aneddoti giro di autostrade in cui in alcuni pezzi si giochi a pallone perché non ci passa nessuno quindi perché in mancanza voluta a questo punto di una visione complessiva continuando a provare per parcializzazione che è un po' quello che si sta facendo quando si parla di rifiuti quando si parla in generale di urbanistica si va avanti però si va avanti e poi i costi però aumentano qui il documento mi sembra un documento franco dice infatti c'è una tabella interessante prendono tutte le opere che sono state almeno cominciate quelle presenti nel CRIP 98 almeno cominciate e dicono il costo iniziale e il totale fino ad ora non tutte sono ancora completate quindi probabilmente i costi sono destinati a salire utese in meno ad esempio il potenziamento del tratto Bologna-Modena sull'A1 da 65 a 188 milioni di euro la terza costiera della 14 di mili cattolica da 107 a 544 milioni di euro sto parlando dal CRIP 98 a questo costo totale aggiornato solo al giugno 2009 per questo documento del 2010 quindi nel frattempo vedremo a breve insomma quando cominceremo a vedere il nuovo consiglio regionale prima in commissione il nuovo PRI oppure raccordo 8 C da 15 a 18 Brennero a 22 da 194 a 500 milioni di euro a far data al 2009 ma davvero paralizzante l'Ai45 e la Vena-Cisena confine regionale da 139 a 800 milioni di euro nel 2009 sono effettivamente delle cifre adesso leggo l'ultima soltanto perché è davvero il 55 Alfonsina di Anopolesine da 581 a 1950 milioni di euro nel 2009 tra il 98 e il 2009 con dieci anni dicono appunto per qua si spiega con un generico modifiche alla pianificazione modifiche al progetto che ha comportato un aumento di costituzione allora per fortuna mi viene da dire non tutto del 98 è stato realizzato per fortuna quindi visto che non tutto è stato realizzato e visto che nel frattempo mobilitazione sui territori c'è stata ed è una mobilitazione permanente per fortuna perché è una mobilitazione di persone che i temi li approfondiscono e hanno le competenze tecniche e le mani per far valere proposte alternative anche oltre alla protesta rispetto a questo spreco di denaro e del nostro suolo allora bisogna ripartire dalla valutazione degli obiettivi del primo 98 chiedersi se sono stati raggiunti o meno chiedersi se sono ancora attuali quali siano ancora attuali e poi tenere dritta la barra dell'idea per cui uno il suolo non va più consumato due la questione dell'inquinamento non è più secondaria perché nel senso la nostra vita il nostro stile di vita la nostra possibilità di avere una stile di vita sano e poi i cambiamenti i cambiamenti di scenario per cui evidentemente qua si dice in questo documento 30 secondi chiuso si dice però non si può chiedere la diminuzione dell'inquinamento ai trasporti perché questo si deve chiedere ad altri settori ma se questi settori non sono integrati diventa un dialogo trasolido per cui se i flussi delle merci abbiamo detto sono diminuiti ipoteticamente i flussi delle merci dopo la crisi non possono essere aumentati più di tanto abbiamo detto che bisogna investire sul trasporto ferroviario si continua invece a rifidarsi almeno insomma nelle intenzioni e nei fatti ultimamente ci si affida ad un monopolio che ha dimostrato di non essere alla testa del servizio richiesto quindi da un lato si dice vogliamo un potenziale trasporto ferroviario infatti dicono è il contrario lo state va verso un peggioramento il nostro servizio ferroviario dall'altro riprendiamo gli obiettivi quelli che erano buoni vediamo se sono stati realizzati stralciamo per fortuna lo possiamo fare stralciamo quelli che negli anni si sono trascinati questi dibattiti negli anni hanno per fortuna dimostrato che sono i rilevanti e ripartiamo da qui dopo di me sicuramente qualcuno parlerà sono convinta anche in modo approfondito della legge obiettivo anche questa è una questione di cui non bisogna trascurare l'importanza ricordo che punto siamo per quanto riguarda il TRIT almeno mi risulta perché l'ho potuto sapere l'ho chiesto anche in consiglio regionale ma non mi è ancora stato detto siamo a una fase di studio che però non è ancora passato né dalla commissione quindi non c'è ancora stata né l'adozione né l'approvazione allora il prossimo passo dovrebbe essere l'adozione da parte dell'Assemblea legislativa prego passaggio in commissione io l'unica proposta di buon senso che mi sembra incredibile che non sia seguita da tutti sia quella di dire che si faccia prima questi passaggi qui si rimandino adesso le altre questioni compreso il bando di gara vorrei venisse fatto ma vedo che la ragione non è dell'idea per il nostro servizio ferroviario per i prossimi vent'anni e poi ci si chieda tutti insieme confrontandoci con i cittadini con il comitato a cui adesso lasciamo la parola che di quante strade abbiamo bisogno come ne abbiamo bisogno di che ferrovia abbiamo bisogno siamo contenti siamo soddisfatti del nostro trasporto ferroviario ecco in modo da evidenziare come si diciamo il prossimo print non sia soltanto il documento tecnico ma qualcosa di cui risente il nostro stile di link grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti